Sei arrivato... e aspettato. Dove è questa? Volevo venire da te. Ma io non potevo dartela. Tu lo capisci, vero? Mi hai già preso Greta. La banca. Tutto. Che te ne fai di lei? Dov'è? Dov'è? Torno. Ci ha messo tanto tempo a trovare un po' di pace. Maestro! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche lei, come gli altri. Adesso invece non se ne andrà più. Resteremo qui, in questa grande casa. Io e lei, per sempre. Doveva solo vent'anni. Comissario? No, comissario, ferma! Fermo, lo lasci! Lo lasci, lo lasci! Non è tardi. No, comissario, ferma!